Musica Primo possesso per l'antella 99, si parte, è cominciata la sesta di eccellenza Gerone B, difende la palla sul pressing di Verdi, attenzione adesso Mazzoni, il numero di Mazzoni, Mazzoni il cross morbido a cercare Taccoli, Taccoli il colpo di testa, la palla però viene respinta Olivieri, Mazzoni torna sul suo piede preferito, Mazzoni ancora col Mazzini, un grande cross verso Vitale che la rimette dentro in qualche modo, Taccoli può andare col Mazzini, Taccoli, Brivido, Picchi, attenzione, apre il gioco, bene Picchi verso Olivieri, C'è la sovrapposizione da parte di Vitale, il cross di Olivieri, attenzione, l'uscita da parte di Fenderico, eccolo ancora il 10 di casa, Olivieri, c'è Vitale ancora che si fa vedere, lo serve Olivieri alla grande, attenzione Vitale, quando era il cross Vitale, Taccoli, Taccoli, 1-0 Antella al tredicesimo, eccola lì la chiave del match Intanto il destro di Fioravanti Stanno giochando a buoni ritmi, Ferravanti, Fioravanti, il pallone al centro, il colpo di tacco da parte di Anichini Attenzione qui Giannini, Giannini, tenta di girarsi, Giannini col destro, la palla che esce 2016-2017, attenzione, il pallone verso Mercia, Mercia può andare col mancino Due minuti, due minuti allora, non un minuto come ipotizzavamo Due minuti, il destro, intanto attenzione, il palo, il palo, incredibile Si parte, inizia il secondo tempo di Antella 99, Firenze-Ovest Va Mazzoni col sinistro, attenzione, il pallone dentro a cercare, Taccoli, ancora gol Incredibile, come prima, come prima, lo stesso minuto Banchi prova il corridoio per Fatù, è chiuso adesso, la mette dentro, è raso terra Il pallone verso Giannini, Giannini col mancino, D'Ambrosio, attenzione Fatù Fatù fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco Calcio d'angolo in favore dell'Ovest, il pallone al centro, attenzione, tagliato Verso Capitano Verdi, la palla respinta, Rossi può andare di prima, Rossi! Cosa ha fatto Rossi? Firenze-Ovest Lombardi Verso Federico, attenzione, sbaglia tutto, Lombardi Tacconi, Tacconi, il pallone dentro Attenzione, verso Baretti, 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 gol! Gol! 3-0 Ovest 3-0 Ovest Il pallone al centro di Lombardi, attenzione, verso Fatù, Fatù Il numero, attenzione, rigore, rigore Parte Simoni col destro E c'è il gol! C'è il gol, ci siamo frenati un attimo perché D'Ambrosio aveva fatto Un altro quasi miracolo Ancora l'Ovest, attenzione, entra in aria Il pallone dentro da parte di Fatù La parata di D'Ambrosio Finisce la partita Sul punteggio di 3-1 per l'antella Ai danni del Firenze-Ovest Stelereti di Tacconi Al tredicesimo e al cinquantanovesimo Poi Sasciamanetti all'ottantatresimo Per il 3-0 Accorciato le distanze All'ottantaseesimo Lorenzo Simone All'ottantaseesimo All'ottantaseesimo Sperdosen All'ottantaseesimo Grazie a tutti